Così come annunciato, ecco che sulle spiagge di Marina Rimodica e Maganucco questa mattina sono apparsi i primi distanziatori in cemento. In totale 1.500 reggi ombrellone che garantiranno e bagnanti il distanziamento sociale in un'estate certamente insolita. Le spiagge modicane quindi le prime ad adottare misure così drastiche, visto che sarà vietato a chiunque posizionarsi al di fuori di tali blocchi in cemento, misure ritenute comunque necessarie per via delle rigide e direttive utili al contenimento del coronavirus. Si tratta, come accennato, di reggio ombrellone distanziati 5 metri l'uno dall'altro. Oggi quindi iniziati i lavori con un trattore incaricato al posizionamento di tutti i segni a posto, ovvero 900 a Marina Rimodica e altri 600 a Maganucco. Tali intenzioni erano già state comunicate dal primo cittadino Rimodica Ignazio Abbate che a inizio mese presentò il progetto insieme ad altri interventi minori come l'allargamento delle passerelle per l'accesso in spiaggia. Progetto però rimasto bloccato alla luce di un ampio dibattito sulle modalità e per questo l'ARTA, cioè l'organismo che si occupa delle valutazioni sul territorio, presentò la volontà di richiedere il parere della sovrintendenza considerata la quantità di cemento da sistemare sulla renile. A metà mese è quindi arrivato il parere favorevole della sovrintendenza che ha analizzato il progetto presentato dal comune e dunque anche la tipologia di supporti non più alti di 30 centimetri che per metà saranno insabbiati e avranno un colore quanto più simile a quello della sabbia. Abbiamo valutato il progetto presentato dal comune senza riscontrare diformità particolari essendo tra l'altro strutture provvisorie, spiega il sovrintendente Giorgio Battaglia. Per questo motivo abbiamo reso il nostro parere favorevole che potrà essere utile anche al definitivo via libera da parte dell'ARTA. A spiegare meglio, anche per evitare allarmismi e fughi in avanti rispetto a tali commenti social, è stato lo stesso Sindaco Abbate. Il comune di Modica è il primo in provincia ad adoperarsi per la razionalizzazione delle spiagge, ma adesso anche gli altri comuni che hanno il proprio territorio lungo la fascia costiera stanno lavorando per delle soluzioni, fermo restando, che non saranno semplici i controlli. Segna posto che quindi, come pare già dalle prime ore, necessitano però di alcune modifiche. Ad iniziare dai posti riservati ai disabili, visto che un signore con figlio disabile questa mattina si è trovato con solamente le ultime file libere. Bagnante, che ha dovuto quindi rinunciare al mare, anche se il sindaco, contattato telefonicamente, ha assicurato già da domani otto nuovi posti ombrellone vicino al mare, riservati ai bagnanti con varie disabilità motorie. Non mancano neanche i primi furbetti, che hanno già inventato il passa ombrellone, ovvero persone che arrivano alle prime ore per guadagnarsi il posto migliore e poi, una volta piazzato l'ombrellone, si sentono liberi anche di cederlo ad altri parenti o amici per tutta la giornata o semplicemente lasciarlo lì per poi tornare nel pomeriggio. Grazie a tutti.